Spicca la firma. Dopo mesi di attesa è nata la rete aeroportuale unica della Campania. È stata siglata ieri pomeriggio da Roberto Barbieri della GESAC e Antonio Ferraro dell'aeroporto di Salerno. La fusione per incorporazione della GESAC che gestisce l'aeroporto di Capodichino e la società di gestione dello scalo Costa d'Amalfi di Salerno. Dal punto di vista operativo l'accordo prevede lo spostamento dall'aeroporto di Napoli allo scalo di Salerno di 4.500 voli di aviazione generale. In tal modo Capodichino avrà finalmente la possibilità di alleggerire il proprio traffico aereo, divenuto insostenibile negli ultimi anni per via del rinnovato interesse turistico nei riguardi della città di Napoli. La fusione offrirà all'aeroporto Costa d'Amalfi l'allungamento della pista, oltre alla realizzazione di un master plan che consentirà lo sviluppo dell'aeroporto. Ci sono voluti anni prima che le due società riuscissero a trovare un'intesa lontano da competizioni che oggi rappresenta invece il vero sviluppo della rete aeroportuale regionale. Ricorsi, mancata concessione, bandi fino a giungere alla convenzione tra le due società. La firma di ieri sancisce il progetto di fusione più volte sperato e sostenuto anche dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Un mese fa infatti nel corso di un convegno organizzato dalla FIT CISL Campania proprio a Salerno, De Luca aveva annunciato gli obiettivi della fusione. Realizziamo per la prima volta un sistema aeroportuale regionale accorpando in un'unica società l'aeroporto di Capodichino a quello di Salerno-Costa d'Amalfi, un'operazione di utilità reciproca perché Capodichino non ha più possibilità di espansione perché è un aeroporto in pieno centro urbano e Salerno-Costa d'Amalfi non è decollato anche per errori e limiti amministrativi. La nuova società che gestirà la rete aeroportuale unica della Campania sarà operativa dalla prossima settimana e con essa anche i nuovi assetti. I due aeroporti controlleranno l'82,65% del capitale sociale, la città metropolitana di Napoli l'11,87%, il consorzio dell'aeroporto di Salerno il 5%, il comune di Napoli lo 0,47%. Secondo le previsioni in tre anni lo scalo salernitano entrerà in funzione a pieno regime. Si prevede che in questo arco di tempo da Salerno possa viaggiare un flusso di almeno 3 milioni di passeggeri in più. Anche il consiglio di amministrazione della nuova società unica sarà allargato ed esteso ad un ulteriore componente per un totale di 9. Questi equilibri resteranno in piedi fino al 2043, anno in cui formalmente scade la concessione definitiva al volo ottenuta da pochi mesi dal Costa d'Amalfi e che dovrà essere successivamente rinnovata. Grazie a tutti.